Musica Utilizziamo l'acquisizione dei dati dell'orto, abbiamo 70 canali sui quali lavorare. Sono dati fondamentali che ci servono per capire quello che il pilota chiede, per avere una corrispondenza a quello che noi possiamo fare. Abbiamo tanti sensori che riguardano sia le sospensioni, le temperature, le pressioni. Possiamo capire in qualsiasi momento la posizione che si trova la moto, quali sono i gradi di inclinazione e le forze che si sono in gioco. Se riusciamo a vedere delle gare con delle righe nere, fumo alle gomme, è perché il pilota gestisce lui a potenza, non avendo dell'elettronica che gestisce la potenza, ma questo lo facciamo grazie ai dati che abbiamo e riusciamo a dargli una moto guidabile. Quindi l'acquisizione dei dati significa sicurezza e performance. Grazie a tutti.